Oggi abbiamo il nostro tavolo meraviglioso imbandito con le noci che pensate si usavano al posto delle biglie e non solo, si usavano anche per tingere i tessuti perché se ne veniva utilizzato per l'inchiostro, per farne inchiostro e poi sono presenti anche nei promessi sposi del Manzoni quando Fragaldino va a casa di Lucia e racconta il miracolo delle noci insomma questo frutto meraviglioso che sicuramente porteremo in tavola nelle nostre feste ma che tante volte viene temuto perché fa ingrassare chissà quali sono le sue proprietà. Bene, oggi a tutte le nostre domande risponde la nostra ospite che è la dottoressa Giulia Vincenzo biologa, nutrizionista e docente al master di secondo livello in dietetica e nutrizione dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma Buongiorno, benvenuta dottoressa. Allora iniziamo subito proprio dal nostro tavolo abbiamo tantissime varietà e anche quando andiamo al supermercato prima di acquistarla, di acquistarle dottoressa come facciamo a capirne la qualità a scoprire la qualità e a riconoscerla? Allora non sembra facile perché la noce è chiusa la vediamo da fuori però ci sono un paio di trucchetti, guardare intanto cercare di capirne il peso perché ovviamente una noce che sembra troppo leggera una noce verosimilmente vuota e secca dentro e agitarla un pochino e vedere se fa rumore, non dovrebbe farne perché se ne fa vuol dire che la noce dentro è secca e che quindi non è buona da mangiare, guardare anche un pochino la buccia, se presenta dei buchini anche lì è meglio non comprarla. Perché vuol dire che c'è il vermetto? C'è il vermetto. Ecco, allora tanti piccoli trucchetti, ma chi di noi è stato piccolo ed è cresciuto con chip e chop, si ricorda che loro ne mangiavano davvero tante e le mettevano nelle guance chissà quante ce ne entravano poi in queste guance. Ecco, noi invece se dovessimo regolarci per la quantità come dovremmo fare? Cioè che cosa possiamo fare? Allora, non ci sono facili anche da quantificare perché si contano e si possono tenere poi in mano riferendoci a un fabbisogno di un adulto medio, parliamo di 2000 calorie al giorno può essere una porzione media 20-30 grammi, che sono 7-8 noci o tante quante ne entrano sbucciate in mano. Quindi io provo a metterle nella mia mano, vediamo allora, sono 3, 4, 5, 6, 7, ce ne entrano anche 8. Diciamo che non possiamo farlo con una mano troppo grossa, però 7-8 entrano in un pugno. Esatto, questo fa bisogno medio di un adulto, chiaramente se vogliamo stare attenti alla linea più o meno la metà. Dottoressa, sempre partendo dal tavolo ma appunto al supermercato ne troviamo anche tantissime varietà, come qui abbiamo le noci di macadamia, abbiamo le noci pecan. Allora, volendo capire come gestirle e riconoscerle, gestirle anche dal punto di vista nutrizionale, ci sono delle differenze? Come facciamo a riconoscerle? Allora, la grande differenza è tra le noci, chiamiamole classiche, e poi il gruppo di noci di macadamia, pegano, brasiliane, perché le noci, quelle nostre, le noci italiane, contengono molti meno zuccheri, circa, anzi, meno della metà rispetto alle altre, sempre riguardando sui 100 grammi di porzione media, e contengono circa il doppio delle proteine, quindi le noci più dietetiche, diciamo così, sono le noci quelle classiche. Proprio le nostre, stiamo vedendo anche un bellissimo cartello dove ci sono tutti i valori nutrizionali per 100 grammi, quindi possiamo regolarci anche con questo. Sono anche un'ottima fonte poi di fibre, di cui però le noci nostre sono leggermente più povere rispetto alle altre. Io poi qui ho una cosa bellissima, perché sempre le tengo così in mano, sperando che appunto la telecamera riesca di inquadrarle, la cosa bella è che guardando la natura già di per sé ci aiuta un po' a capire qualcosa. A cosa fanno bene. E dovremmo stare attenti proprio a quello che ci suggerisce la natura. In questo caso, dottoressa, ci aiuti lei? Che cosa stiamo vedendo? Allora, qui vediamo, esatto, un bel cervello e un bel cuore, perché ovviamente le noci sono ricchissime di omega 3, che è un nutriente molto prezioso, sia per la salute del cervello, quindi per la memoria, per le funzioni cognitive, e anche per il nostro cuore, perché ci aiuta, e ne parleremo anche tra un attimo, a gestire il colesterolo e il rischio metabolico. Quindi cervello e cuore sono i due organi a cui le noci fanno particolarmente bene. Allora, a parte adesso sicuramente con le festività che arrivano, avremo la possibilità di mangiare un po' più spesso le noci, sia come spezzafame che magari come apri stomaco, oppure così per passatempo mentre facciamo una giocata. Ma ci sono degli orari o dei momenti migliori della giornata in cui assumere le noci e trarne tutti i benefici? Allora, le noci comunque sono molto caloriche, come tutta la frutta secca, quindi non le aggiungerei a fine pasto perché arricchirebbero caloricamente anche un pasto, magari ecco in questi giorni è già abbondante. Sono molto comode per integrare la colazione di acidi grassi buoni, sono comode come spezzafame perché sono anche facili da portare via insieme a noi in borsa, non si rovinano, non pesano tanto, oppure sono una buona fonte energetica prima di fare sport. Quindi abbiamo questo cartello tra l'altro veramente molto indicativo che ci aiuta a suddividere in orari specifici della giornata e associare quindi ad un momento. Anche prima di andare a dormire sono comode. Ecco, prima di andare a dormire. Sì sì, un paio, non troppo perché poi ci appesantiamo tanto. Allora, invece adesso le leggo cosa ci scrive, cosa ci ha scritto un nostro telespettatore Guglielmo che ci ha scritto dalla provincia di Benevento. Ho problemi di stitichezza, posso mangiare le noci? Ci aiutano anche in questo? Le noci aiutano, in particolare appunto pecan, macadamia e brasiliane perché contengono una buona quantità di fibra, quindi sì. E invece, dottoressa, possono essere anche un aiuto nei momenti, chiamiamoli di alti e bassi, oggi è anche la giornata mondiale della psicologia. Sì. Quando siamo particolarmente stressati e abbiamo dei cambi di umore, definiamoli così. Sì, perché esatto, le noci come anche la frutta secca in generale, anche le mandorre contengono una buona quantità di magnesio, che è un tonico. Diciamo che il magnesio aiuta un po' a riequilibrare l'umore, a gestirlo, ad equilibrarlo un pochino, insieme anche al triptofano, che è il precursore della serotonina, che è l'ormone della felicità, e agli omega 3 appunto che fanno bene anche al cervello. Quindi assolutamente sì. Stiamo leggendo anche degli altri benefici, diciamo, ecco, l'ipercolesterolemia, i problemi di pressione, i problemi cardiovascolari. In che modo aiutano le noci? Perché contenendo una buona fonte di omega 3 hanno un effetto protettivo, quindi stimolano il corpo a produrre anche proteine HDL, che è il colesterolo buono, quindi che ci aiuta ad evitare il rischio di malattie cardiovascolari. E invece prima dicevamo per il sonno il triptofano, lei ha nominato, quindi ci aiuta ad addormentarci, a dormire meglio. Allora, le leggo anche un'altra domanda che ci ha inviato Mariella dalla provincia di Trento. Ho problemi con la tiroide, mi succede qualcosa se mangio le noci? Andrebbero assunte lontano dal farmaco sicuramente, perché contengono un pochino di iodio che potrebbe interferire. Ecco, quindi attenzione alla nostra amica Mariella, perché probabilmente c'è un momento giusto per assumere le noci. Esatto, tanto va preso a digiuno il farmaco, però comunque le noci un po' più lontane possibile è meglio. Dal pasto e dal farmaco? Esatto. Ok. E invece un'altra cosa, dottoressa, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, l'OMS, ha inserito la frutta secca tra i cibi più sani. Ma a parte la nostra amica di prima che aveva problemi di tiroide, ci sono altri soggetti, altre persone che devono stare attente all'assunzione, magari eliminarli o quantomeno diminuirne l'assunzione di noci? Esatto, per via della loro composizione contenendo una buona quota di fibra, ma anche di grassi, è sconsigliata anche a chi soffre magari di colite, di ulcere, di gastrite, come vediamo, di morbo di Crohn, perché comunque sono alimenti pesanti da un certo punto di vista. Quindi i soggetti delicati dal punto di vista intestinale potrebbero dare un po' di fastidio, quindi bisogna attestare un po' la tolleranza. Esatto. Anche la colite. Ecco, questa purtroppo non è una buona notizia perché tanti soffrono di colite. Noi, allora, idealmente, dottoressa, vorremmo essere a tavola con tutti i nostri telespettatori nelle prossime festività natalizie. Ci farebbe piacere partecipare ai vostri pranzi e alle vostre cene. Diciamo che, appunto, idealmente sarà così, ma volendovi invece lasciare una ricetta per le feste con le noci, ovviamente, la dottoressa ci suggerisce questa ricettina davvero golosa. Sono dei meravigliosi biscotti molto friabili che sono anche buoni da tenere poi a tavola a fine pasto, così riduciamo un po' i dolci, quelli un po' più calorici, no? Tanto gli ingredienti sono facilissimi, basta un uovo, 250 grammi di farina integrale, 50 ml di miele, quindi evitiamo lo zucchero, utilizziamo il miele, quindi addolcisce meglio ed è meno calorico, meno pesante. Serve un po' di olio di semi, 30 ml, tanto spero che stiano prendendo appunti. Anche se non prendono appunti i nostri telespettatori ritroveranno questa ricetta sui social o se ce la chiedono noi la inviamo per email. Esatto, servono 50 grammi di gheriti di noci, cioccolato fondente e un po' di lievito e il biscotto è fatto. E come bisogna farli però, specifichiamo un attimo? Bisogna mischiare tutto insieme, si mette tutto in una ciotola oppure su una spianatola? Esatto, si porzionano sulla teglia con la carta da forno e si mettono in forno a 180 gradi per circa una mezz'oretta, però guarderei perché dipende anche dal forno quanto è efficace. Ma quanti ne possiamo mangiare di questi biscotti? Allora, la domanda è tra bocchetto perché dipende quanto grandi li facciamo, quindi hanno la dimensione media. Non li fate troppo piccoli perché altrimenti esagerate con le quantità. Esatto, diciamo che 3-4 biscotti possono essere una buonissima merenda, un pochino di più a colazione, magari abbinati con un po' di latte perché sono anche molto buoni abbinati alla colazione, in questo senso al latte e al caffè. Se no, un biscottino ogni tanto, quando siamo tristi e quando abbiamo voglia di qualcosa di buono, questi sono consigliati. E ricordiamoci degli orari durante la giornata. Allora, grazie alla dottoressa Vincenzo per tutte queste sue delucidazioni sulle noci. E ora, proprio perché è la giornata mondiale dedicata alla psicologia, a te Monica parliamo.